Ok allora, ciao a tutti i benvenuti, io sono Christian Eales, vi do il benvenuto in questo nuovo video dedicato a One Piece 3 Suscruise. Vi vedete col sorriso, ma finalmente hanno fatto una cosa utile. Ragazzi, Primis con l'ultima versione, la release, non so quale sia, perché non l'ho guardata, l'ho fatta tirando giù qualche santo perché ci ho messo a tre quarti d'ora. Manutenzione tutta mattina, ma ne vale la pena. Ragazzi, allora innanzitutto partiamo dal presupposto che all'interno dei filtri hanno finalmente messo i filtri dei support. Qui vi serve un support che vi toglie i despire. Toh, ma dove cacchio è il despire? No, insomma, sembrava una cosa utile. Ok, che vi toglie sti così qua, fate così e sapete quali sono i support che messi vi tolgono quella special. E già questa è una cosa fighissima, ragazzi. Già questo vale il gioco. Io veramente sono felicissimo, l'ho scoperto adesso perché ho lavorato 14 ore, ho fatto una live che non ho capito un cazzo, non ce la facevo. Cioè, se vedete la live che ho fatto su Twitch, che non era di One Piece, ma era di Homeward. E non capivo più il cap, perché dopo 12 ore, 13 ore di lavoro ero fuori col copertino. Comunque non ho messo sta cosa che è utilissima. Io l'avevo sempre detto, ci vorrebbe uno filtro dei support, perché non ha senso che ogni volta dove entrare dentro e a guardare che cacchio fa come support. Invece così è una figata, cioè vi mettete il filtro, andate nella special e andate a cercare quello che volete e che vi serve. In quel momento vi fate un team in maniera più veloce. Io in genere ci metto un paio di ore perché per cercarti support e i vari personaggi ci metto un paio di ore prima di fare un video. Perché prima potevo fare il team, capire bene cosa togliere, quanto deve togliere, e poi mi basavo su un sito che si chiama One Piece o PTCDB, dove cercami tutti i personaggi e capire se poi erano compatibili col personaggio che avevo. Quindi questa cosa qua, non prendetela sotto tono, perché veramente è una cosa fighissima. Per esempio, se io voglio sapere nella ciurma, nell'editing di un team, per esempio a lui, un support che mi serve per che sia associato a quel personaggio, a che sia chi era Corazon e Elo, vai nei filtri, ti metti support, ti metti tipo che ti serve, che ti cambia gli slot, che ti cambia i slot, ti trova questo qua, che ti toglie gli slot, ti toglie e ti mette, ti toglie gli slot block e te li cambia. In più ti toglie gli attacchi down. Ti serve qualcuno che ti toglie gli attacchi down? Togliete qua, andate su, cos'era, attacchi boost, no, questo qua è, boost e gli attacchi. Vabbè, devo ancora sbatterci la testa perché ancora non è, cioè, però l'ho visto e ho detto faccio il video, troppo bello. E sono felicissimo, ragazzi, ho mandato anche sul gruppo Telegram, probabilmente mi prendo per un ubriacone, forse è vero. Ed è fighissimo. Vabbè, questo è una cosa stupenda. Ma in più, cosa hanno fatto? Ha fatto le cose grandi in questo aggiornamento. Hanno aggiunto pure un'altra cosa fighissima. Adesso torniamo indietro. Nel power up, se ogni volta vi trovate col box pieno, quindi vi sentite box, 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 le clerk box, c'è la soluzione di tutti i vostri mali, l'auto power up. Eccolo qua. Attendete pochi secondi. Attendete. E vi fa vedere, dividi dei gruppi, tutti i doppioni. Ragazzi, non dovete più fare il filtro per special, per capire chi sono, e spaccarvi gli occhi ogni volta che avete il box pieno. Prendete, io adesso lo faccio con uno, eh. Prendo per esempio un ami. Facciamo conferma. La prima volta che lo faccio, avete visto che ne avevo un bel po'. E vi dà un errore. Funzionasse. Sarebbe una figata allucinante. Per il momento non funziona. Vabbè, l'hanno appena messo. Però, se lo sistemano, come essere smentito, zio cane, Bandai che non siete altro. Però, ragazzi, questa cosa qua è una figata. Scusate per il video che ci stavo guardando alla televisione quando l'ho scoperto, sono saltato in aria. Ragazzi, quando funzionerà? Perché adesso lo funziona. E per fortuna non ho il box pieno, perché l'avevo liberato prima. Prima della giornata, no, prima, ieri. Ieri. Perché se lo mettevano ieri, Cristo e Dio, scusate il termine, mi sarei risparmiato un po' di vista, perché è veramente è snervante. Ogni volta andare così, cosa facevo per togliermi i doppioni? Quando avevo il box pieno, andavo qua, mettevo special, e mi andavo a guardare quelli che sono di fianco e controllavo questo qua per esempio è nuovo, cercandolo così, e ci mettete un fottio di tempo. Quindi ci si vuole una marea di tempo. Per esempio, adesso andiamoci a cercare, vabbè, tipo Nami. Nami, che sappiamo per certo che c'è lo doppione perché me l'ha fatto vedere nel filtro, nell'altro power up. Per il momento potete utilizzare per capire chi è che avete come doppione. Visto che ve lo mette di fianco se lo mettete per filtro di special, e così ve lo te levate dai coglioni. Fate così, e via dai ball. Il problema è che adesso non funziona questo filtro. Però, secondo me, una volta che lo sistemano diventa una figata pazzesca. Quindi, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate di questa nuova release. A me, secondo me, è la cosa più bella del mondo. Funzionasse, sarei ancora più contento. E niente, lasciate un commento, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti. fatemi sapere se volete più live su Twitch legati a One Piece 3 Scruise. Probabilmente, no, domani non posso, però sabato avevo intenzione di fare una live di Homeworld, però lo faccio di One Piece perché questo aggiornamento mi sta facendo ritornare la voglia di giocare, di fare le live. Quindi, dite la vostra, fatemi, scrivetemi nei commenti che cosa ne pensate di questi aggiornamenti, se vi è utile, se non vi è utile, se l'avete saputo, se non l'avete saputo, se lo sapete, vabbè, è uscito oggi, quindi che minga. Ragazzi, quindi siamo tutti ai saluti, un saluto a tutti i belli e i brutti e ci vediamo al prossimo video e al prossimo live.